Di casa, replichiamo a questa uscita di Silvestroni, anche nel merito. Mi sembra ovviamente esagerato. Dicevo prima che abbiamo provato a migliorare col contributo di tutti la manovra di bilancio che in un momento straordinario ovviamente ha bisogno di straordinaria attenzione e anche di straordinari passaggi per rispondere alle esigenze dei cittadini. È una manovra di bilancio, senza dubbio, io per onestà intellettuale dico sarebbe potuta essere migliore, può essere migliorata ancora in corso d'opera l'anno prossimo, bisogna prendere ancora decisioni più importanti, però non bisogna dare un giudizio negativo di tutto perché poi sostegno per i ristoratori, per i bar che andrebbero ampliati alle partite IVA, andrebbero ampliati a tutti, sono misure importanti che in questa fase il Paese sente e quindi sono misure che vanno assolutamente a favore dei cittadini. Poi se questa è la migliore manovra di bilancio sono d'accordo, non è la migliore manovra di bilancio ma nelle condizioni date devo dire prendiamo il meglio che c'è, il contributo che abbiamo dato per rilanciare. Non c'è una visione strategica di sviluppo, questo mi sembra evidente e io non a caso dico per onestà intellettuale che probabilmente il Governo ha avuto una scossa giusta da parte di Renzi e delle forze di maggioranza che in questo momento, in maniera costruttiva, non distruttiva, vogliono incanalare il Governo nella giusta direzione. Grazie, allora Boffo, sentire un esponente.